Calcio Serie D, la San Cataldese sfiora il colpaccio sul campo della Vibonese. Nel primo tempo Verdi Amaranto in vantaggio con Zerbo. Lo 0-1 dura fino al 94esimo, quando i Calabri trovano il pari con Martigniello. I risultati della tredicesima giornata. Catania a Cireale 1-0, Sant'Agata a Castrovillari 3-1, Licata a Real Aversa 2-1, Locri a Canicattì 3-1, Paternò, Cittanova 1-3, Ragusa, Trapani 1-5, San Luca, Santa Maria 2-2, Mariglianese, Lamezia rinviata, Vibonese, San Cataldese 1-1. La classifica Catania 35, Vibonese, Lamezia e Locri 22, Sant'Agata 21, Ragusa 20, Licata 19, Castrovillari e Trapani 18, San Luca 16, Real Aversa 15, Santa Maria 14, San Cataldese e Paternò 13, Canicattì, Cittanova e Acireale 12, Mariglianese 3. Nel campionato di eccellenza, Girone A alla Nissa torna al successo dopo il tonfo di Misilmeri. I biancoscudati si sono imposti sul Resuttana San Lorenzo 3-1. In vantaggio, gli ospiti nel primo tempo su calcio di rigore trasformato da Clemente. Nella ripresa, i nisseni pareggiano con Ortiz al 57esimo, passano 10 minuti e arriva il gol del sorpasso messo a segno in acrobazia da Marna. Sul 2-1 il Resuttana San Lorenzo si spegne e nel finale c'è il terzo gol della Nissa con San Martino. I risultati della dodicesima giornata. Parmonval-Gela 0-1, Acragas-Cus-Palermo 3-1, Casteldaccia-Misilmeri 1-1, Profavara-Castellammare 0-0, Sciacca-Mazzarese 4-0, Mazzara-Leonfortese 1-1, Nissa-Resuttana 3-1, Oratorio-Marineo-Enna 1-2. La classifica, Acragas 30, Don Carlo 26, Profavara 25, Enna 23, Sciacca-Mazzara 22, Mazzarese 20, Casteldaccia 16, Nisse-Castellammare 15, Oratorio-Marineo 12, Leonfortese 11, Resuttana-Cus-Palermo 7, Gela 6, Parmonval 4.